Cari amici, oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria Regina. Siamo a una settimana della festa dell'Assunta, ancora oggi la liturgia ci invita a guardare a Maria, a invocare da lei la sua intercessione. Il Vangelo però lo prendiamo dal giorno e ascoltiamo un duro discorso che Gesù fa rivolto ai farisei. Ascoltiamo dal capitolo 23 del Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo, sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli iscrivi ai farisei, praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché si dicono e non fanno. Legano alcuni fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente, allagano i loro filatteri e allungano le frange, si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi delle sinagoge, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti i fratelli e non chiamate padre nessuno di voi sulla terra perché uno solo è il padre vostro, quello celeste e non fatevi chiamare guide perché uno solo è la vostra guida, il Cristo, chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. Gesù si rivolge dunque ai discepoli e insieme alla folla, è un discorso pubblico e davanti a tutti prende posizione nei confronti degli scribi e dei farisei. Ci troviamo di fronte a un discorso duro, dobbiamo stare attenti però a come interpretarlo e cioè si direbbe con un proverbio nostro a non fare di ogni erba un fascio e cioè considerare che quando Gesù parla contro questo gruppo di persone non vuole in realtà demonizzare tutti gli scribi e tutti i farisei perché sappiamo che la loro vita in Israele era spesso una vita esemplare, lo stesso ebraismo, la stessa fede ebraica si è trasmessa grazie a questi maestri, a questi fedeli amanti della parola di Dio, quindi dobbiamo stare attenti a non generalizzare poi in maniera gratuita, tanto che anche dire fariseismo oggi è diventata una parola offensiva. Ricordiamo poi che tra i farisei ci sono dei personaggi famosi anche per la fede cristiana, pensiamo a Nicodemo, era un fariseo ed è andato da Gesù di notte e poi lo ha seguito sulla croce. Poi ricordiamo il famosissimo fariseo che era San Paolo che si è convertito o meglio proprio partendo dalla sua fede fortissima di fariseo nel momento in cui ha incontrato Gesù e diventato uno dei massimi predicatori del Vangelo. Ecco teniamo conto di questo. Nello stesso tempo è forte questo ammonimento che Gesù dà perché mette sull'avviso e mette l'attenzione a tutte le persone che vogliono essere persone religiose, cioè persone che vogliono vivere secondo la volontà di Dio e cioè ci può essere proprio una tentazione propria per chi è vicino al Signore o meglio per chi crede di essere vicino al Signore attraverso delle opere religiose, attraverso la frequentazione degli ambienti della Chiesa. Non basta frequentare l'ambiente, non basta essere persona che vive la sua appartenenza sociale alla Chiesa, è decisiva l'intenzione con cui noi facciamo le nostre azioni. A questo proposito è interessante ricordare una frase di San Lorenzo Giustiniani, primo patriarca di Venezia, che dice ricordati che Dio ricerca piuttosto l'intenzione con la quale compiamo le nostre azioni, piuttosto che l'opera medesima che noi facciamo. E' dunque decisiva l'intenzione con cui uno va in Chiesa, con cui uno partecipa alla comunità cristiana. Ed ecco appunto i rimproveri che Gesù fa. Il primo rimprovero è quello che sono maestri i farisei e gli scrivi, però non bisogna fare quello che fanno, bisogna soltanto ascoltare quello che dicono. Dicono cose giuste, ma poi il loro agire cammina in contrapposizione alle loro parole. Il famoso potrebbe essere l'esempio che troviamo all'unito del Vangelo di Matteo, quando i magi per trovare Gesù hanno bisogno degli scrivi dei farisei che leggendo nelle scritture indicano loro per trovare il bambino, il re che è nato, dovete andare a Betlemme. Ecco, loro sanno e leggono nella scrittura che a Betlemme nasce il Messia, però mentre i magi poi ci vanno, loro non ci vanno. Anzi, Erode stesso, con l'aiuto dei farisei e degli scrivi, riconosciuto il luogo dove Gesù, il Messia, deve nascere, si appresta a ucciderlo e i magi devono andare a casa, da un'altra parte, senza più passare, per Gerusalemme. Ecco il caso in cui uno maestro ha dato un'indicazione giusta, ma la sua vita cammina addirittura in contrasto con quello che è indicato. Quindi anche quando ascoltiamo di maestri verifichiamo se il loro agire è conforme alla parola. La parola può essere giusta, non dobbiamo seguire il loro agire se invece l'azione si discosta dalla verità annunciata. Poi l'altro problema che è tipico di chi insegna ma poi fa in maniera diversa è che si comporta in maniera dura nei confronti degli altri. Ecco, mettono dei pesi sugli altri ma loro non vogliono portarli, annunciano delle verità pesanti. Perché? Perché loro per primi non vogliono portarli. A differenza di Gesù che dice venite a me, il mio gioco è infatti è leggero. Perché? Perché io sono mite e umile di cuore. Questo è il maestro Gesù che mostra una strada esigente ma bella, che non schiaccia l'uomo ma lo esalta. L'altro grande pericolo è appunto che pur dicendo e non fanno e vanno in questo caso sotto il grande ammonimento di Gesù, attenzione a non essere quelli che dicono signore, signore e poi non fanno. Attenzione a non essere quei figli che dicono sì ma voi non vanno nella vigna lavorare, è meglio aver detto di noi poi cambiare e fare, perché davanti al Signore è importante ascoltare sì ma fare la volontà del Padre. Ecco, qualche volta qualche buona opera la fanno, dice il Signore, ma anche in questo caso decisiva è l'intenzione, perché fanno delle opere buone per essere ammirati. Gesù stesso anche nel Vangelo e nel discorso della montagna aveva messo in evidenza, state attenti, quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare ritti per essere visti dalla gente e così anche quando fai delle lemosina non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti e cioè possiamo appunto avere delle intenzioni impure anche nel fare delle cose buone. Gesù, San Paolo arriva a dire che uno può anche dare tutta la sua vita, tutti i suoi beni, ma non avere la carità. Dunque il Signore Gesù ti dice attenti alla motivazione con cui fai le opere buone. Il rischio che l'orgoglio si serva anche del bene per emergere è sempre attuale. Infine Gesù ricorda non chiamate maestri, non chiamate padri, non chiamate guide, ma non è una questione di nomi per cui è bagliato per esempio rivolgersi a un religioso chiamandolo padre. Nella comunità San Paolo ricorda che sono presenti dei maestri, dei dottori, sono presenti dei profeti, però l'insegnamento Gesù non mira al nome ma al contenuto e all'intenzione ancora una volta di come uno fa il maestro, di come uno fa la guida, come uno fa esercita la paternità, è una comunità. Deve essere segno della paternità di Dio, deve essere segno che il vero maestro è Gesù. Chiediamo al Signore che oggi ci aiuti a purificare le nostre intenzioni, che ci liberi dall'orgoglio anche nei momenti di bene, nei momenti di preghiera, che tutto sia sempre fatto a lote del Signore.